Sono onorata di essere il nemico numero uno del Partito Democratico. Il PD ha capito di scuola tanto quanto aveva capito di banche quando salutò con grande gioia il decreto salvabanche grazie al quale morì Banca Etruria. Quindi il coefficiente di consapevolezza è il medesimo. Anche stavolta hanno tentato di far esplodere una bomba e sono rimasti con un petardino in mano. Così l'assessore alla scuola del comune di Arezzo Lucia Tanti in risposta al Partito Democratico che ne aveva chiesto le dimissioni all'indomani dello scongiurato pericolo di tagli alle sezioni nelle scuole di Tregozzano, Etruria e Quarata. Su questo caso avevano scritto dal PD abbiamo lottato al fianco dei genitori. Come Partito Democratico abbiamo presentato interrogazioni e vorremmo chiedere all'assessore Tanti cosa sia cambiato rispetto alle convinzioni che mostrava di avere lo scorso 21 maggio quando ha risposto alle nostre eccezioni. Per il bene di Arezzo proseguono. Sarebbe il caso che l'assessore rassegnasse le dimissioni. In quattro anni ha creato caos, senso ed insicurezza e ha dovuto ritirare i provvedimenti che intendeva adottare. Il tutto ha prodotto inutile stress nei confronti della macchina amministrativa. Ha tenuto impegnato l'ufficio scolastico provinciale, gli insegnanti e il dirigente dell'istituto per ben otto mesi. Con il risultato concludono di rimandare per l'ennesima volta la soluzione definitiva del problema. In sostanza è successo molto e niente. È successo molto perché questa città dal 2017 ha reiniziato a parametrare il coefficiente sicurezza in tutte le scuole della città di Arezzo. Le scuole sono 58, le aule sono 400. Abbiamo riparametrato in tutte e 400 le aule il coefficiente di sicurezza, che non è una banalità. È quel coefficiente che permette di scappare in tempo se succede una disgrazia, un terremoto, una qualunque altra situazione di necessità. Quindi mi pare abbastanza importante. Niente perché su 400 aule riparametrate vi era qualche difficoltà su 7 aule, quindi su 3 scuole, Quarata, per la verità con un problema un po' diverso, Quarata, Antrie e Tregozzano, che insieme alla Presida avevamo in qualche modo già messo a fuoco ad aprile. Abbiamo avuto bisogno di rivedersi perché pur senza cambiare nulla del coefficiente che avevamo indicato abbiamo trovato delle soluzioni parametrate alla realtà.